Beatrice Bragetta, palleggiatrice della OMG Galletti Ponte Valleceppi, una vittoria nel turno infrasettimanale a San Sisto, facile facile, un riscatto per voi dopo la delusione di domenica. Sì, comunque veniva una partita molto tentativa, visto che il Pietro ci ha dato molte forze, veniamo qui stasera molto tranquillamente in realtà, però fisicamente eravamo stanchissimi, è andata bene, eravamo vestiti calmi, quindi eravamo molto puliti. Avete una grande varietà di possibilità al centro, abbiamo visto che stasera Macellari ha provato tutte le sue centrali e tu appena hai la palla buona ti diverti con il gioco in veloce? Sì, il gioco in veloce mi diverte, gioco anche veloce dal lato perché mi diverto di fare quello, però se fai il centrale rimane la persona che mi piace di servire. Si dice un po' tra gli addetti ai lavori che le centrali migliori del campionato le abbiate voi? Ah, sono molto contenta! Per te è una soddisfazione poterle far girare? Assolutamente, poi fortunatamente c'è una marca che è molto utile, visto anche l'infortunità di me, ma è assolutamente gradevole. Comunque sia, è una persona che dà quel pizzico di esperienza in più. Quali sono i prossimi impegni che vi terranno occupati da qui alla fine della regular season, a chi vi preoccupano? Ci preoccupano sicuramente il ritorno di San Feigliano e poi ci vediamo altre partite. Sarà un'altra partita da vendicare, visto che come San Sisto... Sì, San Sisto ci ha raccoggiato molto e quindi stasera ci sono parecchi puntanti, diciamo. Va bene, grazie. Arrivederci.